... Mamma, papà, siete qui! Ti sei affetta presto? Ti voglio bene. Ehi, che cos'è questa storia? Ti voglio bene a tutti e due. Non voglio perdere. Speriamo via solo poche ore e torneremo stasera. Io ho cambiato idea. Adesso voglio venire al mare con voi. Non andate a Carolina, ok? Non essere sciocca, tesoro. Resta a casa studio. Mamma, papà, vi prego. Non andate su quella image. Ho un brutto presentimento. Ma Julie, tuo padre è un ottimo pilota. È un viaggio breve. Non importa. Julie, Julie! Rimetti a posto le chiave. Vi voglio bene. Julie, dove stai andando? Torna qui. Julie! Kevin! Non puoi salire di tuoi su quell'aereo. Sì, li ho già fermati. Sì. Tu ricordi tutto? Sì. Siamo stati là. Io ho il potere! Sì. Grazie a tutti.